Domenica mattina all'alba un 33enne di Maerne è sceso da un autobus a Piazzale Roma per andare al lavoro in centro storico. Improvvisamente però nel ghetto è stato bloccato da tre malviventi che hanno iniziato a picchiarlo. Il ragazzo è caduto a terra ma ad un certo punto è riuscito a divincolarsi e fuggire nonostante lo zigomo fratturato, i traumi al torace e a una gamba. A lanciare l'allarme sono stati i suoi colleghi che lui aveva chiamato per avvisare che non li avrebbe raggiunti al lavoro spiegando loro cosa era accaduto. Secondo la sua testimonianza gli aggressori sarebbero stranieri con ogni probabilità di origine africane, uno con un piumino senza maniche e un altro con un cappello scuro, questo ha raccontato agli amici. Per la vittima 15 giorni di prognosi riservata e intanto si torna a parlare di mancanza di sicurezza in città ma il sindaco Orsoni replica così. Io penso che non si debba mai generalizzare, il centro storico credo sia uno dei posti più sicuri al mondo. E' chiaro che come in tutti i posti possono succedere anche episodi del genere.